Pomeriggio l'Aquila LL1 17.43 eccoci tornati in diretta con Pomeriggio l'Aquila, musica, notizie, curiosità e allora a proposito di musica ho il piacere, ho il piacere, il grande piacere devo essere sincero di aver raggiunto telefonicamente due persone straordinarie, Olga De Maio e Luca Lupoli, ciao ragazzi come state? Ciao, buonasera, ciao. Come va? Allora Luca Lupoli, Olga De Maio e Luca Lupoli, tenore soprano del Teatro San Carlo, come è iniziata questa passione per il canto? Ragazzi comincia Olga, ciao Olga, come è iniziata questa tua passione per il per il canto? Ora non l'ho scelta ma è la passione per il canto che ha scelto me perché sono stata diciamo così individuata a scuola e ho iniziato, ho intrapreso questa carriera nel coro delle voci bianche del Teatro San Carlo, poi ho proseguito i miei studi con il diploma e il tirocinio al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli e ovviamente poi ho cominciato a fare concetti, recital, tantissimi concorsi internazionali vinti come Mascagni, Mario Lanza, Pavarotti International ed ora siamo approdati ormai da parecchi anni al Teatro San Carlo come artisti stabili e solisti. E per te Luca? Luca come è iniziato per te? A me il percorso si è snodato attraverso gli studi di pianoforte da ragazzo, poi il Conservatorio, una laurea in lettere moderne con indirizzo arte e musica spettacolo, poi lo studio del canto, la laurea in discipline musicali canto e coralità al Conservatorio, parecchi concorsi vinti, concerti e così anche arrivati, approdati a San Carlo. Senti, è uscito questo singolo che si intitola Anche quando non vuoi. Luca, che tipo di brano è? Perché ho saputo, brano scritto da Paolo Audino per quanto riguarda il testo e Nando Misuracca per quanto riguarda la musica e gli arrangiamenti. Come è nata questa collaborazione? È nata diciamo con l'idea, con la volontà di accostare i due mondi che paiono tanto diversi fra loro, che sono il mondo del pop, della musica pop con il mondo lirico. Ed è stata una fusione veramente riuscita, indovinata, perché nella canzone, con il tema, anche quando non vuoi, noi lanciamo un messaggio che è il messaggio dell'amore, sì per la musica e per il bel canto, per l'opera lirica, ma l'amore comunque a 360 gradi che investe un po' tutta l'esistenza. E allora il messaggio che noi vogliamo lanciare è proprio quello, cioè di far rivalutare a tutti coloro, alle nuove generazioni, a coloro che non possono recarsi a teatro, quest'arte meravigliosa e immensa che è del bel canto e dell'opera lirica. Olga, per concludere volevo parlare con te di questa bellissima location che ha fatto da sfondo al videoclip Palazzo Caracciolo, questo palazzo monumentale del 1584, oggi è una struttura alberghiera di lusso. Ecco, parlando un po' del video, parlando un po' di immagini e di queste possibilità. Che tipo di avventura è stata per te quella di girare un video per una canzone pop opera? No, è un'emozione e sicuramente è una, diciamo così, un'atmosfera, quella che abbiamo affrontato, un po' diversa da quella che ovviamente è quella del falso scenico, ma sicuramente ci siamo molto divertiti. Il nostro trasporto è stato massimo e il fatto appunto di trovarsi con la telecamera, l'obiettivo e non il, diciamo così, la platea del falso scenico, la platea del teatro è stata sicuramente un'emozione completamente diversa, ma pur sempre importante e bella, perché il messaggio che volevamo trasmettere era quello che ci manteneva sempre vivi. Poi queste location meravigliose, con questo verde, così come il chiostro e la location intera del palazzo Caracciolo, come tu hai detto, veramente abbiamo avuto la possibilità di essere aspitati, di visitare luoghi meravigliosi. Io ragazzi vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ciao Luca! Grazie, grazie a te e a tutti gli ascoltatori e a voi della redazione. Grazie davvero, grazie, ciao Olga, ciao ciao. E allora, signore e signori, Olga De Maio e Luca Lupoli con questa canzone pop opera anche quando non vuoi.